Salvatore Gregorietti fu uno degli artisti più attivi tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento. Egli era stato inizialmente destinato dal padre alla carriera ecclesiastica e fu proprio in quegli ambienti che conobbe gli artisti allora presenti a Palermo e lavoravano anche a importanti commissioni. E fu proprio questo incontro con questi personaggi che venne stimolato una passione per l'arte e proprio il suo superiore, Gioacchino Di Marzo, lo spinse a studiare il disegno e la pittura e a frequentare la scuola tecnica serale di disegno dove successivamente divenne insegnante e direttore per un'attività di circa 40 anni. Gregorietti fu un artista anche molto versatile perché non soltanto fu scenografo, fu un pittore, decoratore, grafico ma anche realizzò vetrate importanti fondando con il figlio Biagio, la Salvatore Biagio Gregorietti vetrate artistiche dipinte a fuoco. Realizzò anche arazzi, mosaici e quindi un'attività a 360 gradi di cui ancora la Sicilia conserva testimonianze e gli iniziò come pittore realizzando dei quadri da cavalletto che erano ispirati un po' anche alle vedute, agli ambienti siciliani. Ad esempio questo vicolo palermitano riprende proprio uno scorcio del capoluogo siciliano in cui si insinua la luce, si insinuano i colori proprio di questa terra assolata e dove si muovono i due personaggi. È un dipinto di matrice verista, tardo ottocentesco, ma era più noto per i decori all'interno delle abitazioni sia aristocratiche che della ricca borghesia. Palazzo Scandurra riproduce in uno degli ambienti di rappresentanza questi medaglioni all'interno dei quali si muovono le donne che danzano. Uno dei motivi tipicamente liberty che Gregorietti riprodusse ampiamente e su tutti i supporti possibili. Infatti le donne da lui rappresentate sono delle donne che sono libere, che danzano, suonano strumenti musicali, si muovono all'interno di fiori molto colorate e soprattutto denotano il ruolo della donna della fine dell'Ottocento che è una donna emancipata, una donna libera, consapevole di sé e della sua forza, del suo potere e soprattutto una donna che diventa protagonista. Questo volto femminile lo riproduce, come dicevo, su vari supporti, in questo caso su stoffa, è il volto femminile tipicamente liberty, elegante, con i capelli sparsi e che consente questa decorazione di individuare anche l'autore di un soffitto splendido, sempre tono su tono come il precedente, che è quello di Palazzo Landolina di Torre Bruna a Palermo, che gli realizzò tra il 1902 e 1903. Un soffitto che, oltre a riprodurre le donne che danzano volte dagli nastri, sono riprodotti dei mascheroni sulla cornice che richiamano il volto precedente. E ancora le donne sono rappresentate negli arazzi, perché, ad esempio, gli arazzi che lui realizzò intrecciano arte classica e anche liberty, e che riproducono anche qua delle donne che sono avvolte dai fiori, riprendono un po' anche dei canoni cinquecenteschi, ma sono soprattutto posizionate all'interno di questa vegetazione rigogliosa. La vegetazione, l'elemento botanico, è un elemento tipico del liberty che attinse dal giapponismo. Era questo un movimento proveniente dal paese del Sollevante, che nella seconda metà dell'Ottocento invase l'Occidente, portando con sé caratteri, oltre che tecniche, motivi di vario tipo, che gli artisti occidentali assorbirono a piene mani. Gregorietti fu uno di questi, ma non soltanto questi motivi provenienti dal Giappone, che erano sui quali, ecco, sulla natura, sui fiori, sui paesaggi, il popolo giapponese vedeva un'impronta divina, ma anche era la moda ottocentesca di tenere dei giardini splendidi da parte delle famiglie aristocratiche, della ricca borghesia, ed erano in competizione, perché si cercavano le piante rare, anche quelle soti che si importavano, ed erano motivo di vanto. E ancora, tra i motivi più rappresentati dal Gregorietti, anche i bambini, oltre agli angeli musicanti, ai puttini in volo, questi bambini si trovano appunto appollaiati, chiamiamoli così, su un ramo, mentre giocano, anche qui avvolti dalla vegetazione, e questo è uno dei soffitti di casa verde rame, che si trova a Licata, che realizzò nel 1903. E ancora motivi animali, troviamo queste gru e i cigni, sono anche questi provenienti dal Giappone, perché erano tra i più utilizzati, e soprattutto vennero assorbiti dal Liberty, infatti quelli più rappresentati dal Liberty erano il cigno e il pavone. E anche qua, avvolti, sempre da questa vegetazione, importante e soprattutto cromaticamente ricca. E ancora più ricca è il soffitto di Casalemos a Palermo, sempre realizzato nel 1903, dove tutti questi rami, questi tralci di fiori, sulle tonalità del rosa e del verde, impreziosiscono un soffitto di una sala di rappresentanza del palazzo e fuoriescono da due vasi posti all'estremità, sono due vasi di impronta tipicamente siciliana. Ancora più delicato, invece, è quest'altro decorazione, che realizzò per Villa Sapio sempre nel 1903, un anno abbastanza ricco di commissioni, dove questi fiori, dai colori così delicati, si muovono, si strecciano all'interno di un pergolato dalla linea così contorta, com'è la linea del Liberty. E ancora un'altra linea contorta, sempre del Liberty, abbiamo in questo caso a Palazzo Fatta, realizzato nel 1903, nel 1906. Quindi parliamo di tre anni dopo. È un decoro molto semplice, ma è importante e protagonista è la linea. Una linea che, oltre a disegnare arabeschi, riproduce il cosiddetto Colpo di Frusta, tanto caro a Victor Horta, che a Palermo fu riprodotto anche dal Basile in varie occasioni. Uno di questi, ad esempio, è la biblioteca di Palazzo Francavilla, dove nella ringhiera disegna tutto un motivo a colpo di frusta. Siamo qui al villino Favaloro, un villino che venne iniziato da Giovanni Battista Filippo Basile, è continuato poi, terminato dal figlio Ernesto. E questo villino, importante, oltre che un esempio, uno dei primi esempi Liberty, ma anche per gli affreschi interni, vediamo qui Liris, protagonista di una decorazione in uno degli ambienti, dove appunto Liris viene ripreso, anche questo dalla tradizione giapponese. Questo fiore era molto diffuso tra i temi del Liberty. Infatti, ad esempio, a Palermo in particolare, oltre a trovarlo in grande abbondanza nella Sala Basile di Villa Egea, lo ritroviamo anche a Casaniello Briuccia, che è stata anch'essa decorata dal Gregorietti. Lo ritroviamo alla Villa Sapio, ma li troviamo quindi un po' nei vari ambienti delle case della ricca borghesia siciliana. Ancora un disegno di Pansè, appunto di Villa Sapio, sempre in 1903, e andiamo alla questa porta splendida, Casa Verde Rame, sempre delicata, e dalla contorsione a questa linea, così appunto sinuosa all'interno di questa vetrata, di questa struttura linea, vengono realizzate dal Gregorietti le vetrate, che cromaticamente si armonizzano con la struttura, ma riproducono soprattutto questo fiore, così caro a Gregorietti, ma al Liberty, che è l'iris. La particolarità sono anche questi gambi dell'iris, che anche qua, per seguire il ritmo della struttura linea, sono contorti, così sinuosi, e si attorcigliano tra di loro, una porta veramente di grande eleganza. E ancora questa linea sinuosa è protagonista in un lavabo, sempre nella stessa casa, dove il colpo di frusta diventa così scattante, diventa protagonista di questa scultura di marmo, di questa decorazione, dove nella parte inferiore si intravede l'immagine di una donna, avvolta anche qui da elementi floreali, e soprattutto molto scattanti anche questi, perché seguono il ritmo del colpo di frusta. Parlevamo del Giappone precedentemente, e qui a Casa Perriè del 1908, a Palermo, riprende uno dei soffitti in stile giapponese, soprattutto l'usanza di realizzare anche le staccionate in bambù, che anche in un altro ambiente utilizza, e da questa staccionata, nell'altro ambiente, fuoriescono dei rami di alberi di ciliegio. Andando avanti, vediamo quanto ancora è presente, ancora di più, il gusto giapponese, e siamo sempre a Casa Verderame. Qui il bambù viene utilizzato per fare da sfondo e per sostenere piatti e lanterne di stile orientale, ma ancora dei ventagli e stampe in stile giapponese. Le stampe erano dei prodotti più interessanti, più importanti, proprio della xilografia giapponese, e che gli artisti occidentali copiarono e soprattutto anche modificarono, apportando elementi di novità, e applicandole all'interno delle proprie opere. Il gusto giapponese era molto diffuso nell'Occidente, soprattutto dal 1854, l'epoca in cui iniziò il giapponismo a invadere l'Occidente, e tra i prodotti che arrivarono in Europa furono migliaia di stampe che riproducevano non solo paesaggi, ma anche donne, quindi l'elemento femminile, e anche scene di vita quotidiana e popolare, erano le stampe ukiyo-e. Questo è abbastanza interessante, molto interessante, perché la stazione ferroviaria di Taormina, che all'interno di questi soffitti, di questo soffitto così scandito da questi elementi che dividono i scomparti, sono tracciati dei decori in stile neomedievale e dei moduli anche geometrici astratti, che traggono ispirazione anche dalla tradizione artigianale siciliana e dei motivi arabo-normanni. Una tipologia di questo genere, di questa decorazione, lo si ritrova anche all'interno della Palazzina dei Quattro Pizzi, che era di proprietà di Vincenzo Florio, a Palermo. Quindi protagonista anche lui del periodo Liberty, perché era un appassionato, oltre che di arte, della cultura in genere, e grande imprenditore appartenente ad una delle famiglie più note nel panorama, non soltanto siciliano, ma internazionale. Apparteneva quindi a questa famiglia che era considerata una famiglia di regnanti senza corona. Ed ecco lo stesso elemento così tradizionale siciliano che ritroviamo in questo soffitto di Villino Favaloro, dove ci sono elementi più classici, in una cornice in basso più classica, con appunto dei medaglioni ed elementi geometrici, un immancabile vaso di fiori, un'alzata con dei fiori che cadono a cascata, e uno splendido merletto riprodotto nei dettagli, che copre parzialmente questo soffitto. Tornando ancora alla stazione ferroviaria, sempre di Taormina, ecco qui un altro scorcio, e un altro ancora, questa è la biglietteria. Dicevo precedentemente che Gregorietti aveva lavorato anche nelle vetrate, l'realizzazione delle vetrate, come ad esempio questo di Palazzo Zingali Tett, che venne realizzato nel 1931, dove sono evidenti motivi d'ecò. e realizzava la sua attività, la sua bottega, le grandi verande, le finestre, le porte, e molte di queste sono andate distrutte e poi rifatte dal figlio Biagio. Ecco qui un altro scorcio dello stesso palazzo, ecco in un altro, siamo sempre in Sicilia, e soprattutto le vetrate del Villino Florio. Allora il Villino Florio fu realizzato tra il 1899 e il 1902 e fu un'abitazione di Vincenzo Florio, della prima moglie Annina di Monte Reale, scomparsa prematuramente, e soprattutto è appunto uno degli emblemi del Liberty, la ricchezza della decorazione interna, anche la particolarità della struttura esterna realizzata da Ernesto Basile, e fanno appunto del Villino Florio un grande capolavoro. La famiglia Florio, come dicevo, era una delle famiglie più note in Sicilia, e non solo. Vincenzo era il fratello di Ignazio, marito della donna Franca Florio, la regina di Palermo, una donna dalla grande eleganza, invidiatissima, per la quale Giovanni Buldini realizzò il ritratto nel 1901, che fu più volte rimaneggiato fino all'ultimo ritocco nel 1924. In realtà, cosa strana è che questo ritratto non fu mai di proprietà di Florio, ma passò attraverso una serie di mani fino ad arrivare all'ultima destinazione, un paio di anni fa, venduta da una importante famiglia, che l'ha inserito nella propria collezione. Ricordiamo ancora Gregorietti per l'apporto dato all'interno anche di committenze pubbliche, ad esempio collaborato all'interno del cantiere del Teatro Massimo, del Teatro Biondo, e ancora lavorò per un'altra delle note famiglie siciliane, i Whitaker, provenienti dall'Inghilterra, anch'essi molto noti in Sicilia per l'attività imprenditoriale, per i quali realizzò il soffitto dipinto con dei motivi fitomorfi a Villa Sofia, in una delle abitazioni delle proprie appartenenti a questa famiglia.